Volevo fare una intro, Nick. No, non posso partire. Ciao, sono Frank. E oggi faccio i cruciverbi. Dietro i cereali di tonno. Dietro i cereali di tonno. Grazie. Prego. Dove essere un video divertente o noioso? Noioso. Noioso. Crucipattol cu... u-ci-cu-ci-cu-cu-cu-cu. Ma cos'è sta roba? Ah, per imparare la cu-ci-cu... ok. Trovate le parola. Nick, ma l'hai scritto tu? No. Ah, vai, c'è una roba. Trovate le parola in senso verticale, orizzontale, dall'alto al basso e viceversa. Le lettere rimanenti vi daranno la soluzione. Non ho capito. Aspetta. Le lettere rimanenti vi daranno... Ah, la soluzione che è sinonimo di pioggerellina di dodici lettere. Ok. Allora, oscuro. Ah, intanto qua c'è aquila. 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 Ok. Poi, aquila con la cu. Oscuro. Ah, qua, oscuro. Oscuro. Ok, quindi cancelliamo. Aquila, oscuro. Poi, acquia. No, aspetta, qua c'è. Acqua. Equa. Equa. C'è equa? No, non c'è equa. Cul. Aquario. Acqua. Acquaio. No. Cul. Cul c'è? Cul. Che si scrive con la C. Poi. Acquaio c'è. Quindi acquaio con CQ. Acquaio. Via. Poi. Aleru, Kiro, Quito. Circuito. Circuito qua. O è circuito? Io lo so. Circuito con la C. Poi Equatore. Equatore qua. Equatore. Equatore. Equivoco. Equivoco. Ah, ma c'è anche queste. Porca miseria. Risciacquare. Risciacquare. Ok. Cuscinetto. Cuscinetto con la C. Cuscinetto. E quindi abbiamo cuscinetto e risciacquare. Equivoco con la Q. Equivoco. Equivoco. Ah, no, si sta spaccando la scatola. E innocuo con la C ce l'abbiamo. Non c'è. Ah, innocuo. Ok. Innocuo. Ok. Acquistato. Col CQ. Acquistato. Equavaca. No, non è una brutta parola. Acquario. Acquario. Acquedotto. 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 Ah, con CQ. Acquedotto. Ok. Poi. Acqua. Dov'è acqua? Non capisco. Ma si può fare anche al contrario? Non si sa. Ecco. No. Dialere. Dialere. Acquedotto. Quercia. No. Quercia. No. Soquadro. Soquadro. Secondo me l'avevo visto. No. Ah, soquadro. Qua. Soquadro. Soquadro con due Q. Poi. Acqua. Ma dov'è acqua? Ma si può anche fare al contrario. Orizzontale. Dall'alto al basso. E viceversa. Boh. Perché volendo qua c'è acqua. Non vorrei sbagliare. Lasciamolo da parte. Vacuo. 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 Qua. Ah, qua c'è vacuo. Fatto. Quindi mi mancano acquario, acquea, quercia e querela. Allora. Querela. Q. Però non dice in diagonale. Quindi acqua. Qua. Ah, acquario. Ho trovato acquario. Che mi manca? Ok. Acquario con Q. Fatto. Poi manca querela, acquea e quercia. Ah, aspetta. Querela. Sì, sì. Allora vanno anche al contrario. Quindi querela. Querela. Poi. Acquea e quercia. Ah, quindi qua. C'è acquia. Acquea. Sì. Cancellia. E quindi manca solo quercia. Che a questo punto. Queava. No. Equeava. No. Quercia. 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 Quisto. E niente, non lo trovo. Ah, quercia. Ma cavolo, era sotto gli occhi. Quercia. Ok. Quindi rimango. Allora, vediamo se ho fatto la soluzione di sinonimo di pioggere lì. Allora. Capisco niente. Aspetta. Ah, questa è presa. No. E anche questo. Quindi ac. A. C. Ac. Acque. Cazzo non riesco a scrivere. Acque. Acque. R. Acquer. Acqueru. Acquerugio. Acquerugiola. 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 Scusate, sono 3, 6, 9, 12 lettere. Acquerugiola. Ok. Il primo era Acquerugiola. Mai sentito. Va bene. Passiamo al prossimo. Questo ci ha divertito tantissimo. Che miseria. Ok. Togliamo questo. Passiamo al prossimo. Il prossimo è questo. Che andiamo a mettere così. Allora. Enigmisticamente. Cruciverba della fattoria. Ok. Ma questo è facile. E. Allora. Abbiamola. E come faccio? Però scrivere in. Ruotiamo leggermente. Ci scusano a Nicolas. Facciamo così. La simmetria è difficile. Allora. Oca. Poi. Questo è un fattore. No. Questo non si è. Coniglio. 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 Poi. Questo è il pavone. Pavone. Ok. Poi cane. Facile questo. Questo è un gallo. Un gallo. Ci sta? Gallo. Un saluto al gallo che ci sta seguendo. Poi. Pulcino. Sì. Porca miseria. Pulcino. E poi. La gallina. Gallina. E. Oddio. La. Questa è una capra. Ah no. In giù. Capra. Ok. Ca. Capra. E questa è una mucca. Mucca. Mi manca il contadino. Ah. Il contadino. Giusto. Ok. Non capisco. Con. Ta. Di. No. E. Ok. Non c'era una. Non c'era niente da scoprire. Finito qua. Ma. Questo è un po' più brutto. Era più bello quello di prima. Ammette. Però facile. Ok. Quindi. Diciamo che avendo risolto questo. Sono a livello di un bimbo di quarta materna. Cioè di. Di tre anni probabilmente. Va bene. Poi. Per ultimo. Ma non per importare. Oddio. Questo è difficile. Puoi aiutare il topo a raggiungere la stella attraverso l'albero di Natale? Ok. Questo è un po' difficile. Perché è un labirinto. E. Allora. Il topo deve andare alla stella di Natale. Fammi pensare. E' un casino questo. Allora. Se. Allora. Parte da qui. Un topo. E arriva qui. Quindi. Allora. Se andiamo di qua. Arriviamo qui. Giriamo qui. Giriamo qui. E siamo morti. Quindi non si va di là. Bisogna andare in su. Quindi. Allora. Così. Si va di qua. E si va qui. Così. Così. Di qua. Ok. Qua si va di qua. Poi si va su. Ok. Qua c'è un bivio. O torniamo giù. Ma si chiude. No. Quindi andiamo su. Ah. Qua si chiude. Ok. Sembra abbastanza facile in realtà. Andiamo di qua. Su. Giù. Destra. Destra. Indietro. Ah. Ma guarda che siamo arrivati. Et voilà. Ma facilissimo questo. Adesso. Ci vorrebbe un evidenziatore. Per fare una cosa fatta meglio. Niente. Ho. Ho finito. Come. Bravo Frank. Lasciate like. Condividete. Ah. Se condividete questo video. È incredibile. Perché è un video brutto. Nick. Ho finito. Il primo mi ha messo un po' in crisi. Dopo. Si volava. Quindi. Un saluto. Poi. Per staccare. Ciao. 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 Ciao.